Tutti desideriamo aprire la finestra su un mondo più bello. Questa speranza è ancora più forte in chi è più vulnerabile, come i bambini e ragazzi in ospedale, o che non possono uscire di casa. Particolarmente sensibili a ciò che li circonda, quando chiudono gli occhi, sognano. Noi siamo il team della provincia di Trento che si occupa di patrimonio culturale e ti proponiamo di partecipare a un progetto. Abbiamo realizzato delle sagome di finestre che potrai ritagliare e assemblare e poi animarle con le tue idee, i tuoi colori, i tuoi messaggi. Perché ognuno di noi ha una storia da raccontare. La tua qual è? Nella mia storia ci sono montagne altissime, fiori, alberi e case colorate. Ci sono tantissimi giochi. In città giocano tutti insieme in armonia. È un diritto di tutti, piccoli e grandi, abitare in un luogo ospitale capace di farci stare bene, di tenerci compagnia. In una finestra ci può stare un mondo. Attraverso il vetro possiamo guardare fuori o dentro, essere felici di quello che vediamo. Possiamo poi immaginare orizzonti, inventare mondi diversi, progettare nuovi spazi dove è piacevole e divertente stare e incontrarci. Sono un sogno! No! Ci sono professionisti che assieme a noi hanno a cuore i luoghi e i bambini che li abitano. Persone che vogliono dar voce ai tuoi desideri e provare a rendere più bello il paesaggio che si vede dalla tua finestra. Ma per fare questo abbiamo bisogno anche di te, del tuo punto di vista, della tua fantasia. Inviaci le fotografie delle finestre che realizzi. Noi faremo conoscere le tue interpretazioni a chi progetta i luoghi dove viviamo. Per scoprire come realizzare le finestre e avere le altre informazioni, visita il sito cultura.trentino.it slash education Questo progetto è dedicato ai bambini e ai ragazzi che vogliono guardare lontano.